Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con Pronto Dottore. Oggi ci occupiamo di disfunzioni erettili, lo facciamo con il professor Carlo Bettocchi dell'Urologia Universitaria del Policlinico di Bari. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie. Allora, prima di cominciare con le mie curiosità, le mie domande e aspettando le vostre domande, io vi ricordo il numero verde gratuito a cui potete chiamare per soddisfare e fugare eventualmente anche i vostri dubbi, 800-098-729, pregherei la regia di lasciare il numero verde gratuito fisso perché i nostri telespettatori possano chiamare in qualsiasi momento. Allora, professore, disfunzione erettile. Io facendo un po', perché sono un po' curiosa, le mie letture sul web, ho trovato che è un problema questo che da un decennio a questa parte, poi mi corregga naturalmente se sbaglio, interessa sempre più i giovani e categorie che prima, insomma, non sembravano, diciamo sembravano, perché è importante anche questo e ce lo spiegherà, non sembravano colpite da questo tipo di problematiche. È così? Sì, assolutamente sì, è vero, anche se da un punto di vista epidemiologico la percentuale aumenta con l'età. Eh, infatti, era per questo. Questo è dovuto ovviamente a un discorso di maggior probabilità con l'aumentare dell'età di avere delle comorbidità, quindi di avere delle patologie che di per sé possono causare o essere, diciamo, un primum movens verso la presenza di una disfunzione erettile. Però è anche vero, infatti quello che lei dice è molto centrato, che sempre di più arrivano ai nostri ambulatori pazienti di età giovane e questo vorrei dire non tanto perché aumentano il numero di persone che hanno problemi, quanto perché aumenta la sensibilizzazione e quindi la conoscenza, non solo del problema, ma della possibilità di gestirlo. Quindi lei vuol dire che praticamente non è un problema di incidenza maggiore, ma il fatto insomma di prenderne coscienza e quindi andare dal medico, parlarne, aumenta e quindi si conoscono più casi perché ci sono più denunce, tra virgolette. Diciamo che esistono le due cose, per cui se da un lato c'è sicuramente una maggior sensibilità e quindi conoscenza del problema e questo è dovuto a una campagna informativa veramente massiccia che si è avuta attraverso le società scientifiche, quella di urologia, di andrologia, di endocrinologia, che hanno portato avanti una serie di campagne veramente di sensibilizzazione con settimane di prevenzione, con numeri verdi, veramente tante iniziative, tutte con l'obiettivo appunto di far conoscere la problematica alle persone e quindi di avvicinarli a quelli che sono i medici che si occupano e quindi c'è stata anche un po' l'identificazione di chi è il medico a cui deve andare, perché mi credo che fino a poco tempo fa il paziente con il problema non sapeva a chi rivolgersi. Quindi vogliamo dirlo, ecco, qual è il medico a cui rivolgersi? Cioè rivolgersi, perché se è vero che sono patologie difficili, è difficile parlare di questo tipo di argomenti, me ne rendo conto, però è anche importante centrare poi l'obiettivo, cioè piuttosto che andare da un medico che poi dirà no devi andare da un altro medico e poi da un altro medico ancora, sapere esattamente dove andare e soprattutto che cosa escludere innanzitutto, perché il problema credo che possa avere una matrice psicologica come una matrice diciamo organica e quindi l'importante è escludere o l'uno o l'altra per concentrarsi poi su quella che la verrà a causa. No, no, ma è vero, diciamo che la nostra campagna è sempre stata mirata a rendere in tutto e per tutto autonomo e comunque un primo punto di riferimento il medico di medicina generale, perché sicuramente dovrebbe essere la persona più vicina e quindi che meglio conosce anche le problematiche del suo assistito, la persona che più di tutti dovrebbe cominciare a fare uno screening tra i suoi pazienti, tra virgolette, a rischio di patologie, per cui sempre detto che il medico di medicina generale dovrebbe essere la prima persona, la più facile delle persone da raggiungere, ma detto questo il medico di medicina generale ha un problema legato al fatto che molto spesso conosce bene la famiglia, magari il paziente non si sente a suo agio di dirlo, per cui sono un po' di vantaggi e svantaggi. Quindi in seconda battuta? Come specialisti sicuramente quelli che si sono interessati più di tutti a questo argomento anche perché comunque si trovano a gestire tutte le problematiche dell'apparato genitale da un punto di vista di altri tipi di patologie sono gli urologi e direi anche gli endocrinologi e dal loro punto di vista anche gli psico, come li chiamo io, che possono essere i psichiatri o gli psicanalisti o gli psicologi, chiamiamoli un termine abbastanza generico, ma che comunque riassume coloro che si interessano all'interno della loro branca anche specialmente di sessuologia e per cui molto spesso sono in grado anche loro di incominciare a gestire, laddove i problemi sono relazionali, questi tipi di problematiche. Buonasera, ho parlato già con la vostra collega, mi ha detto di aspettare in linea Sì, adesso è in diretta, può esprimersi e può fare la domanda Non sentivo perché avevo abbassato moltissimo la voce. Volevo sapere dal dottore, ho detto alla vostra collega, dato che io prima facevo il carrozzire, mi sentite bene? Sì, sì, benissimo E allora mi sono rivolto già ad un urologo e mi ha detto che per via della vernice e del diluente c'è tutta quella roba là, a me c'è questa disfunzione rettile e questa disfunzione anche quando mi trovo in stato di ansia molto forte, praticamente mi porta a questa roba qua E l'unica cosa che mi ha detto, dice ti devi rivolgere per la pillola Naturalmente mi ha fatto arrivare... Mi scusi, le hanno chiesto, le hanno detto di rivolgersi presso chi? Mi scusi, le hanno detto di rivolgersi a chi? C'è, aspettate, mi ha detto San Marino Ah, San Marino Ah, San Marino Sì, sì, mi ha fatto arrivare delle pillole Sì, sì, sì Ma guardi, io non voglio... Mi ha fatto arrivare delle pillole che io ho pagato regolato Ok, allora, la sua telefonata, se posso dare una risposta completa E' molto interessante perché sicuramente qualcuno le ha detto che ci possono essere degli aspetti di tipo intossicazione professionale, se così posso chiamarla, che possono aver causato dei problemi Tutto questo ovviamente è difficile da dimostrare e anche la letteratura non sostiene molto, in particolar modo, il discorso delle vernici per quanto riguarda le disfunzioni rettili Ma detto questo, il compito del medico è proprio quello di accertare se esistono delle componenti organiche E noi abbiamo degli esami strumentali o anche di laboratorio che ci aiutano a far questo Però lei ha detto un'altra cosa importante, che lei ha comunque un forte aspetto di ansia Che quello di per sé potrebbe causare i problemi di cui lei sta parlando Ora, per quanto riguarda la terapia, esistono alcuni farmaci che vengono presi fuori Che solitamente sono farmaci off-label Significa farmaci che non sono in commercio per l'indicazione per la quale lei li sta comprando e utilizzando Ma forse sono in commercio con altri tipi di indicazioni o sono farmaci che non sono in commercio in Italia Io le posso assicurare che la sua problematica può essere tranquillamente gestita ottimamente Utilizzando i farmaci che noi abbiamo in Italia, che lei può comprare tranquillamente nella farmacia sotto casa E che quindi ha più facilità sia nel reperire che nell'utilizzare Per cui il mio consiglio è che lei comunque si rivolga ad uno specialista E con lo specialista conduca una normale diagnostica E poi vedrà che la terapia la riporterà laddove lei si trovava prima di avere questi problemi I farmaci per l'impotenza sono sempre gli stessi, insomma, cioè quelli più conosciuti Sono gli stessi degli ultimi anni Che sono il Viagra e il Cialis Allora noi abbiamo questi tre farmaci per via orale Che, diciamo, gli ultimi sono usciti, di questi tre sono usciti nei primi anni del 2000 E che ancora oggi sono in commercio Ci sono state delle novità negli ultimi anni Che probabilmente la gente in parte conosce o comunque è giusto ricordare E cioè noi abbiamo avuto, al di là di questi farmaci che noi abbiamo conosciuto Perché inizialmente sono usciti in commercio per una terapia al bisogno Cioè venivano utilizzati e vengono ancora utilizzati In funzione di un rapporto Quindi assunti circa un'oretta prima del rapporto E si gioca la loro funzionalità nell'arco di tempo Che ognuno di loro ha come tempo di emivite, quindi durata d'azione Però noi abbiamo avuto due novità negli ultimi anni Uno è stata la commercializzazione del Cialis A un dosaggio inferiore di 5 mg che ha portato a un uso giornaliero Quindi il cosiddetto uso cronico di questa molecola E l'ultima novità invece che è proprio recente di quest'anno È uscito in commercio il Levitra Con una nuova formulazione, oro dispersibile Che lo rende più veloce, pratico e comodo da assumere Perché non ha più bisogno dell'acqua È una compressa che si scioglie in bocca E la posologia è sempre giornaliera? La posologia, no, la posologia del Levitra rimane al bisogno Ah, al bisogno Sì, sì, sì Però è un farmaco molto più comodo da assumere Di masticabile, diciamo No, non si mastica Prende proprio, va messo sotto il palato Ah, si scioglie E si scioglie rapidamente in bocca E funziona nella stessa maniera con cui funziona l'altro Levitra già in commercio Perfetto Abbiamo un'altra telefonata Pronto? Pronto? L'abbiamo persa Pronto? Sì, buon pomeriggio Ah, buongiorno La sento pochissima, signorina E noi invece la sentiamo forte e chiaro Io la sento pochissima Senti, buonasera prima di tutto Volevo fare una domanda al dottor Betocchi Certo Prego Prego La stiamo ascoltando Dottore, buonasera Senti, dottore Io sto su mente da parecchio tempo Sono un ragazzo di 35 anni, no? Sì Sto su mente una pillola La gena prosto da 5 mg Non ho capito La scusi, può ripetere? Come si chiama? Può ripetere la pillola? Il nome della pillola? Gera prost Gera prost Tera prost, sì Gera prost, da 5 mg Sì Gera prost Ecco, però dottore Io lo sto su assumendo questa pillola Per quanto riguarda il problema dei capelli Dei capelli? Perché dice che faceva effetto sui capelli Sì Sì Eh, io venerdì sera Mi sono trovato sul Rai 3 A sentire una trasmissione Perché questa pillola È altamente C'è degli effetti Collaterali Per quanto riguarda la sterilità Per quanto riguarda, diciamo, le lezioni erettili E mi sono preoccupato, diciamo, di questo Se lei gentilmente mi poterà una risposta Perché proprio venerdì, venerdì sera, sul Rai 3 Ho sentito questa notizia Dice che se ne sono accorti Che questa pillola C'ha degli effetti collaterali molto forti Sulla questione Sull'elettrità E per quanto riguarda la sterilità Sì Va bene, grazie Grazie mille Allora, ci sono dei farmaci in commercio Che vengono utilizzati Appunto, anche per la ricrescita dei capelli Ma non è quella la loro unica indicazione Sono farmaci utilizzati anche per ipertrofia prostatica Ci sono dei farmaci che utilizzano un meccanismo Per il quale possono avere come effetti collaterali La diminuzione della libido In alcuni casi ci può essere anche disfunzione rettile E, diciamo, effetti minori Per quanto riguarda il problema della sfera riproduttiva E quindi della capacità di riprodurre l'individuo In questi casi che si fa? Si predilige? Ma sono effetti collaterali Per cui è chiaro che se il paziente Utilizzando questo farmaco Ha la, tra virgolette, sfortuna Di avere questi effetti collaterali Perché non è che l'effetto collaterale È qualcosa che accade su tutte le persone Altrimenti sarebbe parte di una terapia Ma se dovesse accadere questo Allora si gioca un po' l'equilibrio Nel senso che due sono le possibilità O uno cambia il farmaco O uno gestisce l'effetto collaterale Quindi questa è poi una decisione Che lei dovrebbe prendere contestualmente Insieme con il medico Che la segue per il discorso dei capelli Bene Poi noi ci rivedremo Perché il nostro tempo oggi è scaduto Ci rivedremo perché ci sono ancora Tanti aspetti da chiarire Soprattutto sulla relazione Con altre patologie Come l'ipertensione per esempio Per dirne una Allora bene Grazie al professor Betocchi Per essere stato con noi E io come sempre Vi do appuntamento a pronto dottore Domani alle 15 Mi raccomando Continuate a seguirci E a chiamarci Arrivederci Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi